Tiziano Pesce, una buona serata. Buonasera dottor Maggioni, buonasera a tutti i telespettatori, grazie del gradito invito. Grazie, allora che impressione hanno fatto queste immagini, in particolare quelle del Belgio, dell'Inghilterra, dunque nazionali importanti, con grande visibilità, grande seguito, che hanno fatto questo segno, si sono inginocchiate per i diritti di tutti. Sì, ma intanto io penso che gli europei in questi giorni rappresentino una grande manifestazione dall'altissimo valore che porta sicuramente risvolti positivi anche allo sport sociale, anche allo sport cittadinanza, anche al nostro sport, quello apparentemente lontano da quei palcoscenici. E io credo che nello specifico di questa manifestazione si debba sicuramente guardare con molta attenzione questo fenomeno di cui lei parlava poco fa, comprenderlo, io direi anche studiarlo per operatori dello sport come noi e per quanto possibile per ognuno di noi anche sostenerlo. Io credo che se, possiamo dire così, se è vero che i cambiamenti avvengono attraverso anche semplici gesti quotidiani, credo che sia altrettanto vero che occasioni come queste, mediatiche importantissime, possano sicuramente dare una mano, contribuire ad affrontare il fenomeno della promozione dei diritti, il fenomeno del razzismo e sicuramente sensibilizzare l'opinione pubblica sulla necessità sicuramente di cambiare mentalità, di cambiare comportamenti e di approcci di tante persone, perché sicuramente il razzismo è un problema serio in alcune situazioni, in alcuni ambiti, lo possiamo definire ancora come una vera e propria piaga, ma che tocca diversi ambiti, quello dal colore della pelle, la condizione di genere, non dimentichiamoli. Naturalmente lo sport pesce è un veicolo per raccontare storie positive, storie di cambiamento, un pallone spesso può fare molto più di tanti altri strumenti. Abbiamo forse dalla regia qualche immagine dell'ultima edizione dei mondiali antirazzisti che si sono tenuti a Riace due anni fa. Eccole qui, i mondiali antirazzisti sono un'occasione di incontro, un'occasione di sport praticato dal basso. Non c'è l'arbitro perché ci si regola naturalmente tra giocatori nel massimo del fair play, giocano anche le donne, dunque squadre miste. Le chiedo in conclusione quanto esperienze di questo tipo che tengono insieme il sociale, lo sport e naturalmente anche le storie delle persone servono per costruire una società diversa? Sì, esperienze come quella dei mondiali antirazzisti che ha dato vita, ha gemmato negli ultimi anni un vero e proprio almanacco di appuntamenti WISP sul territorio per dire no al razzismo sono assolutamente importanti. Si parla un linguaggio semplice, si parla il linguaggio dello sport, dello sport di base, dello sport sociale per dire tutti insieme, atleti, dirigenti, no alle discriminazioni attraverso lo sport per promuovere sicuramente uno sport antirazzista ma un'idea di società aperta e accogliente. Ricordavo proprio il modello dei mondiali antirazzisti, partite autoarbitrate, negli ultimi anni abbiamo superato anche i confini della pratica del calcio, abbiamo inserito nel palinsesto delle attività la pallavolo, il rugby, il basket, ma poi ancora il beach volley, il beach tennis e tanto altro. La caratteristica di queste iniziative è la convivenza, tutti i partecipanti costruiscono insieme per la durata delle attività una comunità, potremmo dire con un grande mosaico di lingue differenti, di storie differenti per ribadire ovviamente ancora una volta, e lo facciamo con forza sempre come Wisp in tutte le nostre attività, la centralità delle persone, la centralità di occasioni di confronto e di dialogo appunto mediante lo sport. Grazie davvero al Presidente Nazionale della Wisp, Tiziano Pesce, una buona serata, questa è la storia dei mondiali antirazzisti, scorrono i titoli di coda, anzi lo hanno già fatto, su questa puntata è di...